Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi cerchiamo di configurare al meglio il force feedback del vostro volante per RFactor 2, me l'avete chiesto in tantissime, a gran voce e quindi oggi dopo un bel po' di ricerche e diciamo aver battagliato per creare un'applicazione tale da darvi modo di evitare il clipping, oggi sono veramente contento di poter fare questo video. Allora, prima di iniziare qualsiasi cosa dovete andare a scaricarvi il programma Simab che è questo qui, adesso chiudiamo questa finestra, eccolo qua, questo qui dove ci sono tutti questi bei giochini che trovate, vi lascio il link in descrizione, andate a scaricare questa bella applicazione, per l'installazione non c'è nulla di complicato e per farlo funzionare ho anche fatto un video dedicato in merito, quindi vi invito assolutamente ad andare a guardarlo, è un'applicazione che vi dà la possibilità di avere tantissime informazioni sul vostro cellulare o su un monitor secondario, su un tablet, quello che è, comunque trovate le specifiche appunto nel mio video. Cosa ho fatto per voi? Ho creato una mini dashboard in overlay da appunto mettere su Rfactor 2 solamente per appunto configurare questo nostro force feedback. Quindi avete un secondo link nella descrizione, lo scaricate e dopo aver scaricato ed installato Simab senza avviarlo, andate direttamente sulla cartella di Simab, eccolo qua, quindi fate tasto a destra, fammi vedere dove si trova il programma, andate qui in Dash Template e dopo aver scompattato ovviamente il file che vi ho fatto scaricare, lo installate qui dentro, si chiama Fab e vi ritrovate questo appunto dentro Dash Template. Fatto ciò, avviate Simab, andate su Dash Studio, quindi normalmente di default vi dà questa, Dashboard, andate su Schermate Overlay e vi dovreste ritrovare qua dentro, Fab. Basta fare nuovo modello e come vedete, e sto lavorando con un solo monitor, l'ho fatto apposta ragazzi perché non tutti hanno un triple screen, e ve l'andate a posizionare dove volete, ad esempio qui, e fate, togliete la spunta da nascondi quando non sei in gioco e stop modifiche. E quindi a questo punto qui lo riducete ad icona. Ed eccola qua. Quindi questa astina è praticamente configurata per il force feedback di RFactor 2 e funziona come plugin a 64 bit. Perché? Perché i plugin vecchi, diciamo, per monitorare i force feedback con l'avvento del DX11 non funzionano più e non li hanno rinnovati. Quindi ho dovuto trovare uno stratagemma per farvi avere questa informazione sul vostro force feedback. Una cosa importante da controllare, assolutamente, è nella cartella di RFactor 2, quindi io vado su Steam, App, Common, RFactor 2, su Bin64 e Plugin, devo andare a controllare di avere questo RF2 Pedal Overlay Plugin X64. Lo metto insieme all'overlay che vi ho fatto scaricare così, se eventualmente non ci dovesse essere, basta prenderlo e incopiarlo qui. Quindi sotto Steam, Steam, App, Common, RFactor 2, Bin64 Plugin è importante perché questo fa, diciamo, l'overlay dei pedali è importante. Fatto questo, quindi vi ripeto, vado a scaricare Simab, vado a scaricare il file che vi ho fatto scaricare, avvio Simab, ve lo rifaccio così, avvio Simab, diciamo che siamo qua, vado su Dash Studio, mi ritrovo qua su Dashboard, vado su Schermate Overlay e faccio nuovo modello. Quindi questo lo porto dove mi pare, tolgo la spunta da nascondi quando non giochi, stop modifiche, d'accordo? E perché possa funzionare, devo andare a controllare se ho installato per bene il plugin, quindi Steam, App, Common, RFactor 2, Bin64, Plugins e mi ritrovo qui, RFactor 2, Pedal Overlay Plugin. Va bene? Lo faccio due volte così almeno siamo sicuri che è fatto bene. Fatto ciò, devo, prima di arrivare a avviare RFactor 2, devo andare a sistemare le forze, quindi metto così, le forze del mio volante. Allora, io ho messo tutto al 100% perché molti, ci sono due pensieri per quanto riguarda l'insieme delle forze, ce ne sono che dicono che non bisogna superare il 70%, altri 75%, 80%. Io, essendomi consultato con Vincenzo Nixos che si occupa tanto di force feedback, mi sono reso conto che non ha tutti i torti dicendo che bisogna mettere il 100% perché non bisogna castrare la forza del proprio volante e dire guarda dammi tutta la capacità che hai e quindi al 100% perché altrimenti va in clipping a partire da la limitazione che avete messo voi. Quindi se mettete il 70% al 71% andrà in clipping ovviamente o comunque andrà a ridurre, ad autocastrarsi per le forze che domandate e quindi si sentiranno i volanti mosci. Quindi si mette il 100% e poi si va, per evitare il clipping, a effettuare delle modifiche proprio nel gioco e che vi andrò a spiegare. Altri due parametri che sono importanti sono sicuramente questi due, quindi la forza della molla e dell'ammortizzatore, adesso in francese non so come sarà scritto in italiano. Anche qui ci sono due filosofie di pensiero, una dice al 100% e una dice al 0%. Perché 0%? Perché alcuni dicono che è un artificio che viene a snaturare quello che è l'effettiva sensazione e realtà di quello che dovrebbe essere un force feedback. Altri invece dicono che invece lo migliora. Quindi qua io vi dico ragazzi fate i vostri test e quello che vi aggrada di più lo tenete. Io l'ho messo al 100% perché non ho un motivo particolare, perché non mi sono messo né a testare al 50, 70 o allo 0, è sempre stato così. E con le impostazioni che ho credo di avere un force feedback che mi soddisfi abbastanza. Fatta questa premessa è anche importante parlare dei gradi di rotazione del volante perché ho sentito che alcuni avevano un po' di difficoltà nel comprendere che cosa sono. I gradi di rotazione del volante sono praticamente la velocità con la quale, ad un certo valore, facciamo girare le ruote nel simulatore. Per essere più specifico, più i gradi di rotazione sono bassi e più quando girerò il mio volante fisicamente le ruote gireranno rapidamente. Quindi più è basso e più ci avviciniamo a una levetta stick di un gamepad e questo non lo vogliamo. E' ovvio che questo valore deve essere direttamente collegato alla tipologia di auto che stiamo per utilizzare. Vi spiego meglio, se sto guidando una Formula 1 avrò bisogno di uno sterzo più immediato, cioè ci sono delle sterzate più dirette, secche e non ho la necessità di andare a fare girare il mio volante come se stessi facendo una manovra. Devo avere una sterzata diretta. Se invece sono, diciamo, delle GT o un'altra categoria di macchina meno potente, ovviamente questo valore andrò sicuramente ad aumentarlo, a metterlo a 900, a 1080, quello che è. Perché? Perché ho bisogno comunque di una sterzata più dolce, meno immediata, proprio per la struttura fisica della nostra auto. Quindi io lo lascio a 450 perché proprio le mie prove le ho fatte del force feedback su una Formula 1 del 91, proprio su R-Factor 2. Prima di avviare, ovviamente è importantissimo per poter utilizzare questo overlay layout di C-Mab, andare a impostare la modalità di esecuzione del vostro R-Factor in borderless, o meglio senza bordi, oppure in finestra. Io l'ho messo senza bordi e a questo punto andiamo a fare subito ad eseguire il gioco. Ok, siamo sul menu principale di R-Factor 2, come vedete c'è sempre l'asticel qui a sinistra dove l'ho posizionata presente, questo è molto importante. Prima di entrare sul gioco è bene fare comunque un giro per vedere appunto quelli che sono le cose importanti da controllare. Prima cosa andiamo sul plugin e andiamo a vedere se è abilitato il nostro R-Factor 2 pedal overlay plugin in 64 bit. Se non fosse il caso, allora vuol dire che non avete fatto l'installazione del plugin e soprattutto se è attivo, in questo caso è attivo quindi nessun problema. Andiamo poi sui controlli anche per capire come funziona un pochettino. Allora, per chi si può essere la domanda sensibilità a sterzo digitale che vedete qui a 20%, questo qui è un valore che a noi non interessa perché è esclusivamente dedicato a chi gioca con il gamepad, quindi non ci interessa. Sensibilità alla velocità, guarda avanti, deviazione amplificata, movimento test eccetera eccetera, queste sono impostazioni prettamente personali. Sta a voi decidere la sensibilità in base alla velocità, se volete che guardi avanti o che ci sia una deviazione amplificata durante la sterzata, quello che è o anche il movimento della testa, questo sta a voi. O se la testa deve vibrare, questo è qualcosa che vi riguarda assolutamente perché è molto personale. Ovviamente sulla destra sono le impostazioni che ci interessano, quindi tipo di force feedback, volante, force feedback specifico vettura e impostata 1.00, però non tenete conto di questo ragazzi, vi dico solo perché ho modificato proprio per farvi capire a quelle impostazioni sono arrivato e il perché. Filtro attenuazione force feedback 4, rotazione del volante e quello di default che ho impostato nel profiler di Trustmaster, ovviamente questa impostazione, ho dimenticato di dirlo, però sono dei valori generici che devono essere adattati in base alla periferica che avete. Perché magari questo force feedback specifico vettura 1.00 va benissimo per il mio T300, ma magari sarà più alto per un TX, più basso per un Fanatec e via dicendo. Quindi io vi do in linea di massima a cosa servono e come bisogna regolarsi per poter trovare la giusta impostazione. Quindi questa è un'altra premessa che era da fare. I gradi di rotazione vi ho spiegato, veicolo setting, questo lo lasciate spuntato e poi la forza torcente minima, questo è il valore molto importante per andare a guadagnare quelle sensazioni minime che si hanno quando il volante non è sotto sforzo. Nello specifico, la forza minima torcente è quella che, ad esempio, quando siete su un rettifilo, se la impostate a zero, probabilmente ci sono delle forze che vanno in anticlipping, chiamiamolo così, cioè non vanno oltre la forza, ma non sono elaborate dal vostro volante perché sono troppo piccole. Quindi questa forza torcente minima vi dà la possibilità di andare a avere queste sensazioni, anche piccole, di tutte quelle piccole asperità, tutti quei piccoli movimenti che vengono ad aumentare la sensibilità al force feedback. E questa qui si imposta in un modo particolare. Quindi fatto questa premessa di cosa sono le impostazioni, andiamo direttamente in gara. Allora, quindi siamo al menu di gara di Rfactor 2, quindi cosa andiamo a fare? Andiamo su settaggi, controlli e come vedete qui è impostato esattamente come abbiamo messo nel menu delle opzioni. I gradi di rotazione sono i 4,50, questo qui è veicolo settaggio, setting, in pratica con questa spunta io lascio decidere ad Rfactor 2 come impostare i gradi di rotazione. Se vedo che non mi piacciono, non mi trovo, posso togliere la spunta e andare a modificarlo manualmente. L'effetto sarà immediato nel senso che più abbasso questo valore più sentirò andare al limite il mio volante e quindi avere una sterzata più rapida, più aumenterò i gradi e più dovrò fare dei giri per arrivare al massimo dei gradi di rotazione del mio volante. Io lascerei su 450 perché mi sono trovato abbastanza bene e quindi comunque questo fa parte del settaggio in generale. Ed è importante comunque avere un grado di rotazione settato abbastanza bene perché altrimenti non si riesce a sfruttare il proprio volante come si dovrebbe. In pratica ragazzi se lo abbassate troppo e state usando un volante come se fosse un gamepad e non va bene. Nel caso specifico 450 gradi di rotazione sono pochissimi, cioè bisogna veramente aumentare. Però come vi dicevo in base alla macchina che utilizzate, quindi una formula, non servono tanti gradi di rotazione. Detto ciò, io rimetto il settaggio a quant'era? A 8 e il force feedback specifico lo lascio a 1. Allora, partiamo dalla forza torcente minima, in questo caso è all'8%, cioè io sto dicendo a RF2 ricuperami, impostami l'8% delle capacità del mio volante anche quando non ci sono grandi cose che succedono in pista. Cosa importante prima di andare a testare è centrare fisicamente il vostro volante, è importante, lo centrate perfettamente. Fate gara, lasciate che si accende il motore e se il volante si muove da solo vuol dire che non va bene. E che cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna dare ad abbassare questo valore. Quindi lo abbassiamo di due punti, ricentriamo fisicamente il volante, rifacciamo gara e vedete che già si muove un po' di meno. Però vuol dire che non va bene, quindi che facciamo? Torniamo ancora indietro e andiamo ad abbassare di due punti. Ricentriamo fisicamente il nostro volante, facciamo gara e se non succede nulla, allora possiamo tentare di mettere un altro punto in più, anzi mezzo punto. Facciamo di nuovo gara. Non si muove. Ora io vi invito a muovere un pochettino lo sterzo di poco e a lasciarlo. Come vedete si muove, però siccome se noi lo teniamo fermo e lo rimettiamo centrale, quel mezzo punto gli dà fastidio. Quindi torniamo indietro e mettiamo quattro, in ogni caso l'avevo testato, quattro è praticamente quello perfetto. Eccolo qua. Poi ovviamente se lo muovo c'è un minimo di movimento e poi si ferma, quindi va bene. Fatto questo, quindi la forza minima torcente che ho bisogno dal mio T300 è del 4%, o 4,5%, 4%, sì. Quindi già so che quando andrò a girare avrò una forza minima. Ora vi invito a guardare la siccella in bassa a sinistra. Ecco qua che inizia a muoversi. Sapendo che quando è al minimo vuol dire che il valore è tra 0, 2, 3, 4, quello che è. E quando va, riempie tutta la barra, questo a sinistra in rosso, vuol dire che sto andando in clipping. Quindi il mio test sarà quello di fare un giro cercando di stressare al massimo il mio force feedback per vedere se queste impostazioni attuali vanno bene. Vedete che c'è stato già un pelino di clipping, o ancora, e non sto diciamo facendo cavolate. E soprattutto quando ci sono spostamenti di carico, ancora clipping, si è visto, ancora. Quindi già di base non va bene, perché non è che sto stressando la macchina, sto facendo tipo come se stessi scaldando le gomme. Quindi dove posso intervenire? Sicuramente sul force feedback specifico vettura. Quindi dovrei scendere magari di 0,10 proprio sul force feedback specifico della vettura. Riproviamo, vado in gara. Esco dai box. E rifaccio lo stesso test. Diciamo, cerco di fare un po' il pazzo con questa macchina. Quindi vedete già entro un pelino più forte e guardate, niente clipping. Si ferma al 90% probabilmente. Poi posso anche andare a sbattere sul muro, vedete, diciamo in situazioni hard, in situazioni difficili. C'è un po' di clipping, però come vi dicevo nel video precedente, alcune volte avere del clipping non è che è importante. Perché ci sono delle situazioni che stiamo creando che non è che sono la normalità di quando si guida. Vedete? Però c'è ancora qualche punta di clipping che arriva che potremmo, tecnicamente, andare a ridurre. Vedete? Quindi, tecnicamente, potrei andare a togliere qualche punticino. Mettiamo 0,87. Andiamo a sbattere. Tenendo d'occhio sempre quello che succede in quella colonnina a sinistra. Mi sembra che in situazioni estreme ci sono delle piccole punte di clipping, ma mi sembra che sia del tutto accettabile. Quindi questo potrebbe essere già l'impostazione ottimale per quanto mi riguarda. E' ovvio che però potrei anche andare a giocare sul filtro di attenuazione del force feedback, mettendo 0 filtri, per avere un force feedback grezzo, così, e andare a vedere la differenza. Io vi consiglio assolutamente di tenerlo quel filtro, perché si sente una differenza, diciamo, come di peso. E' meno dettagliato. Però, vediamo se gli effetti sortiti sono diversi. Vedete, il clipping c'è comunque, e questo non è, diciamo, estremo. Quindi, per me, dovrebbe rimanere a 4. Si può anche aumentare, poi sta a voi vedere, a giudicare. Quindi lo lascio a 4, 0,87 per me va benissimo. Quindi questo è, diciamo, il modo in cui si deve regolare e come ci si rende conto se si fa in clipping o meno. Questo force feedback, ovviamente, viene influenzato, cioè il clipping o meno, viene influenzato anche da quelle due force che vi dicevo ad inizio video. Cioè, stiamo parlando di queste qua. Queste due. Probabilmente potremmo fare anche un test. Le mettiamo a 0 e andiamo a testare di nuovo. Bene, ragazzi, allora ho abbassato le due force come abbiamo visto. Lascio le stesse impostazioni e ve lo dico subito se noto qualche differenza. Allora, si è stabilizzato, quindi vuol dire che il 4% è sempre quello che ci interessa. Allora. E qua, ragazzi, guardate subito. Allora, effettivamente si sente un penino di dettaglio in più. Devo essere onesto. Cioè, si sente quando la gomma sta... Come se dovesse perdere aderenza. Però vediamo il comportamento del force feedback. Con quelle due force lì. Quindi, qualche punta di clipping. Però si sente... Come se ci fosse un vuoto nel volante. Quindi, probabilmente, bisognerebbe andare a... Ad mettere qualche punta di forza in più. Ad esempio, un 50%. Perché si sente come se fosse un po' vuoto. Una specie di zona morta nel force feedback. Quindi, tutta quella, diciamo, snaturalezza del force feedback. Non sono assolutamente d'accordo. E ho notato che c'è più clipping senza forze che con quelle forze lì. Quindi, a voi anche, ragazzi, ad andare a fare dei test. Perché no? Lasciatemi un commento di quelli che sono i vostri risultati. Le vostre sensazioni. In merito a queste modifiche. Io concludo il video qui. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, non esitate a lasciare un commento. Un like. Noi ci vediamo prestissimo. Perché ho in mente di fare un video ben specifico. Anche per quanto ricorda il FOV. Il Feed All View. Perché, diciamo che se è impostato come si deve. Può portare vantaggi. Se è impostato come non si deve. Contrariamente a quello che si possa pensare. Può veramente cambiare il vostro modo di guidare. Nella speranza che questo video vi sia piaciuto. Io vi ringrazio per avermi nuovamente seguito. Se avete dubbi, perplessità, qualcosa che non avete capito. Non esitate a lasciare un commento. Non esitate a lasciare un commento anche se ho detto qualcosa che non va. O ci sono delle imperfezioni in questo video. Lasciatemi anche i vostri consigli, le vostre esperienze. I test che avete fatto. Perché anch'io sono un giocatore come voi. Quindi sono qui. Ho sedi di apprendere come voi. Quindi ci vediamo prestissimo. Ricordatevi, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Tanto è gratuito. Ed attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta pubblico un video. Noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrice è tutto. Ciao. 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 Grazie a tutti.